e beh a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovissimo video di fortnite oggi siamo qua in un video challenge insieme al refrozzo leggendario dopo tanto tempo in questo video raga andiamo a fare una cosa assurda proviamo a fare una cosa che se ci riesce raga vola tutto in cosa consiste raga questa challenge consiste nel mimetizzarsi sopra camioncini del reboot no 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 spesso non morire ah vabbè quella lì è la cosa iniziale mimetizzarsi sopra camioncini del reboot e provare a killare le persone che vengono ovviamente a rebuttare sopra camioncini del reboot per l'appunto il compito di refrozzo è quello lì di killare una persona di un team e poi tipo fuggire tantissimo in modo tale che la persona che ha perso il suo il suo mate venga a rebuttare io col pompa lì lo washotto in to the face e niente ragazzi andiamo subito in partita e guardiamo un po' cosa si riesce a fare vai vai subito in partita allora ragazzi abbiamo deciso di andare a Stark Industries perché secondo i nostri calcoli matematici è il posto in cui il camioncino del reboot è più coperto di tra tutte le città vedete tra le siepi tra l'albero tra tutto raga è qui il camioncino quindi secondo noi è il più coperto guardiamo un po' se riusciremo a portarci a casa qualche kill qualche kill ozza bella bella allora devo trovare un pompa e qualche consumabile se no sono già morto vai vai ok già persa la partita ti do le cildini se vuoi visto che sono anche celesti vai vai ah si le cildini sono perfette una domanda ma se tu muori io che faccio? provi a farlo te ok cildini è un'arma ci provo non ci credo è white vai è morto ora lo verrà a restare ora lo verrà a restare siamo pronti a vedere ragazzi ora sto qui è qua sopra è sopra il tetto eccolo qua va porco non ci credo tutti fammi caricare questo la raga appena arriva qui a restare se dovesse arrivare madonna li tiro una scarica li scarico porca troia un caricatore in faccia lo butti proprio in testa cazzo non ti vede ciao fra no way raga no way giuro se c'è un coglione è pieno di gente c'è gente là c'è gente dietro c'è gente lì pieno zippo di gente guarda quello guarda quello no way fermo 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 devo stare fermo non devo prendere le armi porca troia se mi scopri raga perdiamo una partita sei fottuto sei fottuto va vai io a pushare da qualcuno viene a restare c'è per forza per forza direi a stark distrusi in dio oh dio shish shish viene lui a restare fra viene lui a restare lo senti ti prego vieni a restare vieni a restare fra ti prego perché cazzo raga una kill zitti tutti fra fra vogliamo vogliamo minimo 50 like in questo video per 50 no raga 100 si punta 100 subito primo video dopo tanto tempo 100 no cento la 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 cosa facciamo dopo cioè cosa fai che video file ecce eh boh guardiamo ragazzi ci direte poi sotto nei commenti magari una prossima challenge io non ci credo ancora dad e se le sto per il quale quanto avrebbe segnato questo fa quanto avrebbe segnato mamma mia oh non si mette qui a dormire ah però ma se build un po' almeno mi copre un po' cioè se build sembra quasi che tipo hanno già arrestato e quindi vanno lo stesso boh prova anche se mi sa che un muro non ti basterà certo proprio metallo materiale più lungo da finire oddio oddio sta arrivando no 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 ti prego vieni da me tanto lo so che devi restare lo so che devi restare lo so dov'è o è lì alla sinistra si stanno cercando la scheda oddio 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 no fra non ci credo lo stavano sparando lo stavano anche sparando da di qua da qua giù lo stanno sparando ricco le vedi le vedi le vedi ti vedi laggiù guarda sopra no no se mi vede quello là sopra raga madonna ma ma che sta facendo moonwalker moonwalker no no non mi puoi sparare fra non esisto io che bastardo oddio no non ti fu sparando te sta sparando a lui sta sparando a lui che talento è questo ma che ma invisible c'è il superman c'è il supereroe quello è invisibile proprio e si fra non ci sto fra non ci sto non posso spostarmi troppo sono poi idola do all'attenzione e dallo occhio eh raga guardate guardate c'ho anche gente dietro raga che cazzo la tempesta è quasi vicino a me quasi fra mamma mia quasi oh fra se vinco se vinco vola tutto eh se vinco vola tutto eh se vinco così stando tutta la partita sopra al cammincio delle butte ragazzi voglio 150 like altro del 100 eh esatto 150 oddio fightano dai dai forse forse vanno a arrestare guarda gente lì raga è più ansiogeno giocare così che che normalmente raga ve lo giuro oh 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 la gerata un è morto un è morto però ora se quelli da giù van mirano loro io sono nel mezzo capito cioè proprio nel mezzo del fight sono ma ma io io dico oh ma quelli là la dietro dove sono non sono finiti boh io sto così a questo punto sperando che magari l'hanno killato uno e devono mi arrestarlo la safe la safe la safe ai 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 raga ai 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 ma a parte loro devono in verso di me guardiamo se vediamo se mi scoprono fra vediamo se mi scoprono a raga sto tremando raga te lo giuro c'ho nasce addosso e devo muovere per forza le gambe mi sono tutta la sedia va beh ma come fai come fai se non è eccoli la dove 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 eccoli eccoli ma c'è altra gente comunque mi sa che ci sono due team lì penso secondo me ragazzo cazzo o se da solo se da solo gli sparo no non è da solo non è da solo ecco la giù c'è un altro rica la giù c'è un altro che faccio fra piano piano verso dietro di loro prendi l'arma del box e anche le le spalle hanno il pezzo che le fa per lui no a mandare qualche forza erano insieme si si erano insieme rega leggenda ora ora si prova a vincere la fra il luce ce l'ho e lui ce l'ha esatto no ok vai vai da mandare a mandare a mandare perché se si fa aiutano e poi dopo magari a terra 1 e si curano perdo tempo non hai ma se la vinci fine basta che è raga e vabbè vabbè ho scelto la gente corro 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 no c'è anche lo scidone a 50 quanto tutti c'è qua dentro porca merda tra facciano cosa spero troppo prof una cosa porco e niente ragazzi qui da del refro che vi parlano io sono stato veramente un coglione devo dire verità e potevo vincere la raga potevo vincerlo lo stato egoista però non mi ha notato nessuno e non mi ha notato nessuno ragazzi zero per se mi hanno notato quindi raga porca miseria se la avete lasciato dovete lasciare like e iscrivete al canale per forza ovviamente raga vi lascio il link del cani del refro in description raga passateci perdone e niente ci vediamo presto al prossimo live al prossimo video da del refro è tutto bella cosa bella 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 bella